Buongiorno, bentrovati. Oggi è la volta di Ferrari, del film Ferrari, storia italianissima, del nostro costruttore di auto, però diretto da un regista americano, Michael Mann, che più americano non si può, nato a Chicago e esperto in noir per Maschip, veramente un direttore coi fiocchi, ha diretto De Niro e Pacino in The Hit La Sfida, è stato regista dell'ultimo dei Moicani e di altri capolavori molto polizieschi, molto noir. Appassionato dalla storia di Ferrari, ha deciso di raccontare in un film un libro che racconta un anno particolare della vita di Ferrari, del 1957, un anno dopo la morte del figlio di Ferrari, la storia dei suoi piloti, delle sue donne. Molto polemica su questo film perché hanno detto che Ferrari è una storia italiana, deve essere diretta e interpretata da attori italiani, qui Ferrari è interpretato da Adam Driver e direi quasi irriconoscibile perché è una maschera, quasi sempre con gli occhiali da sole, ma al di là delle polemiche italiano-italiano, secondo me è corretto vedere Ferrari diretto da un regista, non italiano perché è un Ferrari non pettinato, non ben costruito, non è un santino come ci saremmo aspettati da un film italiano, quindi è un Ferrari un po' cinico, cattivo. Complimenti a chi fa la moglie di Ferrari in questo film, cioè Penelope Cruz, che più italiana di lei non c'è nessuno, veramente un sangue latino, anche se spagnola, veramente un gran bel film. Complimenti.